Attualmente stiamo realizzando una stampante che dite che studia applicazioni in argilla cruda a posto che prende a zero. Per l'impianto di trasformare il milagro ecologico di due anni. Se ne vuoi un pochino? Allora qui ci leggo in argilla cruda e poi ci spuscio la casetta. E questo è 260x190x260. Stiamo a ballare il calore. Stesso si stava nel milagro. Però vedi che questi qua li fanno fare la furba. Perché il motore è praticamente all'apice della furba. Come se il motore fosse qua. E quindi spinge verso inalazio.